Sono davvero sconcertanti le parole pronunciate da Massimiliano Allegri, parole che fanno vacillare anche uno come me che viene comunemente definito come allegriano, come uno che ti fa più allegri rispetto alla Juve. Sono parole nelle quali Allegri declina ogni responsabilità e scarica tutte le responsabilità per ciò che di buono non sta capitando a Juve quest'anno sui giocatori, facendo anche dei nomi. E io penso che quando un allenatore fa dei nomi dei propri giocatori per metterli un po' alla berlina dell'opinione pubblica, come per dire è colpa vostra, è un allenatore finito. Di cosa sto parlando? Guardate il video. Questo è un gruppo di giocatori giovani e a parte Danilo nessuno ha vinto niente. Non hai giocatori importanti o maturi che riescono anche a gestire le situazioni difficili. Cioè a chi chiediamo? A Gatti che l'abbiamo presa in Serie B, a Cambiasso che l'abbiamo presa dal Genoa, con tutto il rispetto. Ma quando io parlo di crescere tutti assieme mi trovo con un'altra squadra, un'altra maturità, con giocatori con cui diventa difficile perdere un certo di partite. E noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto col Frosinone. Noi dobbiamo migliorare su tutto, ma per migliorare non possiamo fare tanto altro. La posizione in classifica non ci deve far dimenticare i problemi che ci sono e sono grossi. Sono grossi problemi. Cerchiamo di lavorare per risolverli. Ok, però in realtà queste parole non le ha pronunciate Massimiliano Allegri. La voce chiaramente era la mia, non ho fatto neanche lo sforzo di camuffarla. Ho letto e ho reinterpretato in realtà le parole dette da un altro allenatore, molto famoso, che ha allenato la Juve. E che molti vorrebbero tornarsi alla Juve, che viene preso come esempio di allenatore che invece si assume tutte le responsabilità. Guardiamo il video vero. Ma Aldo, tu hai giocato a calcio, hai giocato anche a livelli importanti, va bene? Qua stiamo parlando comunque di un gruppo di giocatori che tranne Godin non ha vinto niente nessuno. Noi stiamo facendo un'esperienza, non hai giocatori importanti o maturi che riescono anche in alcune situazioni a gestire, anche in situazioni difficili. Cioè, a chi chiediamo a Nicolo Barella che l'abbiamo preso dal Cagliari, a Sensi che l'abbiamo preso dal Sassuolo. Cioè, con tutto rispetto, ripeto, quando io parlo di steppa, di importanza, di crescere tutti insieme, e invece poi mi trovo che con un'altra squadra, con un'altra squadra, con un'altra maturità, con giocatori che diventa difficile perdere questo tipo di partita. Noi l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto, non è la prima volta, abbiamo fatto il Barcellona, a Col Sassuolo è successo questo tipo di situazione. Noi dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare su tutto, i calciatori lo sanno, ma più che lavorare non possiamo fare. E ti ripeto, detto questo, ai calciatori io dirò sempre grazie, perché mi stanno dando l'anima, mi stanno dando la vita. E allora, anche quando c'è l'errore, io li giustifico, perché loro veramente mi stanno dando tutto, e li sto chiedendo anche delle fatiche che alcuni devono sopportare, e invece nemmeno i fatti volentieri di riposare. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare, stare tranquilli, belli rasoterra, ecco, perché... Le vittorie non devono, cioè la posizione in campionato non deve inebriare i problemi che ci sono, perché i problemi ci sono, ci sono e sono grossi problemi. Quindi cerchiamo di lavorare tutti insieme per cercare di risolvere i problemi, visto che ci sono. E quindi, ragazzi, perché ho fatto questo video? Non è certo l'intento, come molti sostengono, di ecco, pur di difendere Allegri, guarda cosa ti inventi. Ragazzi, io, ma io sono il primo, io ci sguazzo in questo clima di disagio che si è creato, capisco bene il meccanismo, so bene che qualunque cosa dica una parte piuttosto che l'altra, viene dall'altra parte manipolata. Quindi se io sono stato fortemente allegriano, qualunque cosa io oggi dica è per difendere Allegri, ma non è così. La cosa che mi fa ridere è che negli ultimi tempi sto dicendo sempre, in ogni video, che ritengo conclusa l'esperienza di Massimiliano Allegri alla Juve, e che per me il giorno in cui Allegri lascerà la Juve sarà il mio 25 aprile, una liberazione, ma non perché lo odi, non perché lo ritenga un allenatore sopravvalutato, no, semplicemente perché sono stufo e non reggo più questo clima che si è creato, e poi anche perché sono curioso e voglio veramente capire se è vero quel che sostengono tantissimi tifosi, secondo i quali è tutta colpa dell'allenatore, e quindi con un altro allenatore sicuramente faremmo meglio. Laddove per fare meglio, per me e come per tutti i tifosi della Juve, fare meglio significa vincere, perché fare meglio del secondo posto vuol dire arrivare prima. Siccome io sono tifoso della Juve, tifo della Juve, io spero che l'anno prossimo con un nuovo allenatore, chiunque gli sia, la Juve torni a vincere. Quello sarebbe un grande risultato, un grande successo. Quindi dicevo, nonostante io in ogni video dica questa cosa, in realtà la gente commenta i miei video dicendo, ecco ci mancava un altro allegriano, ecco il solito allegriano che difende l'allenatore prima della squadra. No, sto dicendo questa cosa qua, però, però, io vorrei che ci fosse anche un po' più di chiarezza, perché vedete, sono i fatti che giorno dopo giorno smentiscono le teorie disagiate che voi cercate di diffondere. Ieri si è giocato a Roma Brighton e quindi era il nuovo Vate De Rossi contro il vecchio Vate del calcio De Zerbi. La vulgata raccontava che uno come De Zerbi fosse talmente bravo da poter fare ottimi risultati, a portare in Europa una squadra mediocre come il Brighton. Considerate che di squadre mediocre in Premier League non ce ne sono, perché con i soldi che girano là qualunque squadra può permettersi di avere una rosa di giocatori, non dico come quella dell'Inter, non dico come quella forse, teoricamente della Juve e del Milan, ma sicuramente dello stesso livello di tutte le altre squadre italiane. E la verità, è una una sola, la verità è che voi vi fissate, vi convincete di determinati argomenti, voi avete in testa concetti che con il calcio non c'entrano niente, le idee di gioco che supererebbero il fatto di non avere giocatori abbastanza forti. Questo in parte è anche vero, ma è molto in parte, quando guidi una squadra di livello medio, allora lì l'allenatore si è in grado di dare quel qualcosa in più, arricchendo, facendo performare meglio la propria squadra. Quando parliamo di squadre di vertice, ovviamente l'allenatore è importante, ha voglia che è importante, ma la differenza la fanno soprattutto i giocatori. Non è un caso che uno come Guardiola, che è il miglior allenatore del mondo, senza dubbi e senza ironia sia chiaro, allena sempre solo squadre fortissime e pretende sempre solo giocatori fortissimi. E ad esempio al City è arrivato a Champions League dopo anni in cui si è fatto comprare praticamente il mondo. L'altro giorno ho letto dei commenti di qualcuno che ha detto ecco vedete il City anche con le riserve vince, perché la dimostrazione delle idee di gioco, ma cioè ma seriamente fate, ma le riserve del City sarebbero titolari in qualunque club d'Europa e del mondo praticamente. Quindi davvero, io vorrei semplicemente, perché voglio che Allegri se ne vada? Perché mi piacerebbe che la UE venisse valutata senza queste teorie del cavolo che vengono diffuse da determinate persone, perché sono teorie che non esistono, non hanno alcun fondamento e quindi con un nuovo allenatore finalmente torneremo a dire che magari la Juve non sta vincendo perché non ha i giocatori adeguati, magari i giocatori si infortunano perché magari sono già presi con dei problemi o perché semplicemente è una cosa che capita o perché magari ci sono altre problematiche che io non sono in grado di stabilire e non attribuire ad una persona le colpe di qualunque argomento. Iscrivetevi, commentatevi, commentate e fate quello che vi pare. Ciao, ah e un saluto ovviamente a tutti i miei haters e detrattori che si guardano tutti i miei video, guardano le mie live aspettando il momento in cui ci sono pochi spettatori e ahimè non lo faccio di mestiere, non faccio 12 live al giorno e non dico neanche le cose che piace sentirsi dire alla massa dei tifosi, quelli più disagiati che hanno più tempo da passare online e quindi porca miseria, poca gente guarda le mie live e quindi per questo si vendicano delle cose che dico. Quindi un saluto anche a voi, faccio tutto questo soltanto per voi. Ciao.